Sono cinque le persone che hanno perso la vita in Calabria in incidenti sul lavoro nei primi mesi del 2022, a rilevarlo l'Osservatorio Nazionale Morti sul Lavoro che ha sede a Bologna. A livello nazionale, nel medesimo periodo, sono state registrate in totale 193 vittime. Tre incidenti mortali tra quelli che hanno riguardato la Calabria e si sono verificati in provincia di Catanzaro, uno in quello di Cosenza e un altro in provincia di Reggio Calabria. Nessuna vittima invece nelle province di Vibo e Crotone. Al 31 dicembre 2021, sempre i morti sul lavoro erano stati in Calabria ben 34. Ad attestarlo sempre il report annuale dell'Osservatorio Nazionale sui morti del lavoro. A livello provinciale, 16 vittime sono state registrate a Cosenza, 7 a Catanzaro, 5 a Reggio Calabria, 3 a Vibo e 2 a Crotone. Nel 2021, in Italia, sono morte in tutto 1.404 persone per infortuni sul lavoro. Di questi, 695 sui luoghi di lavoro, con un aumento del 18% rispetto all'anno precedente. Non sono stati conteggiati nel monitoraggio i lavoratori morti per infortuni da Covid.